Alle ore 11.52 di oggi, venerdì 10 maggio, una scossa tellurica di magnitudo 3.5 ha colpito la provincia di Reggio Calabria. L'epicento è stato individuato a 7 km da Deglia Nuova con una profondità di 22 km, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Poco dopo, un'altra scossa di minore intensità a magnitudo 2.1 è stata registrata nella stessa provincia, precisamente a 8 km da Scido con una profondità di 14 km. La sala sismica dell'INGV a Roma ha effettuato la localizzazione del sisma, il quale è stato avvertito chiaramente dalla popolazione locale. Numerosi utenti sui social media hanno testimoniato di aver sentito la scossa in vari luoghi della provincia di Reggio, tra cui San Roberto, Tauria Nova, Scido, Polistena e Rizzicone. Sentito benissimo, ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato. Avvertito forte.